Ma pensa a te, guarda qua Ma chi me l'ha fatto fare veramente? Mi hanno fatto un grosso cuore ragazzi Ragazzi, stanno andando via davvero Insomma, veramente mi piglio male Arrivato a Roma in virtù Non so ancora cosa mi aspetta Adesso ci dovrebbero essere nati qui da qualche parte E scopriamo insomma cosa vuol fare Eccolo qua ragazzi Ma tu sei un evidenziatore Il ragazzi è già chiuso eh Sembra un evidenziatore Ti piace? Senti ti ho portato Ah pensavo che fosse il mio ingresso quello No, tu hai il cuscino e la coperta Le scarpe sono mie Però mi fai da porta Ti faccio da porta a borsa e sto qui Facciamo da suonare Sto pure a scaricare le scarpe così dopo i sistemi Ah, le sistemo io? Oh, sei qua a te e sto io qua stanotte Dai che vai bravo, su Vabbè bene per loro ragazzi Signori, siamo arrivati Via Tripoli 147A Roma-Sanisano Non stanotte Bellissimo Dormi qui? Spegnare lui ci sono notte, vero? No, ci sono i neon accesi È tutto viola da fuori Poi dopo vedrai Senti, questo è qua No, è bene Scusa, devo dormire lì sopra? Volevo venire lì dietro E ci sono i neon accesi Quindi tu mi dici che da qui fuori Poi dopo mi vedranno Tutti Quindi cerca di non dormire nudo Ok Va bene Quindi io posso prendere una scarpa che voglio No, è inutile che cerchi È inutile che guardi Perché la scarpa dove la casichetta la porto domani Se no, conoscendo di te appena io esco da qua Prendi la scarpa E invece ti sta qua a stare di controllare, di sistemare C'è la scarpa di sistemare Non ti dico di dare una purità Che ne piace? Io lo so che cosa ti piace Sai già tutto Stai tranquillo So anche il mondo Allora, dimmi la roba Questa zona com'è? No, la zona è tranquilla Siamo in uno dei quartieri migliori di Roma Al massimo qui fuori ti trovi domattina 70, 80, 150 bambini Che vogliono entrare, che hanno riconosciuto Non mi diciamo nessuno No, no, sei tranquillo Il video è scendifferito, no? Allora forse dormire tranquillo Abbiamo un pallone? Sì Siamo pieni di palloni Però per quello c'è quello apposta Basta che non lo rompi per favore Perché è fatto su misura Questa è Space Jam Quello è un'edizione di Space Jam Ti posso dire che la pica del Funko Pop Ti piace? No, sta piacendo Sta piacendo molto Non abbiamo presi tipo 300 A breve penso che arriviamo fino al soffitto Allora, senti Ti ho lasciato qua delle scarpe di sistemare Dietro c'è il magazzino Non ti ruba niente Perché tanto è tutto catalogato Quindi si manca qualcosa Non lo do abiti Molte scrive su WhatsApp a passo del Dequify E se c'hai qualche problema Qualcosa che è Non mi chiamare Perché dormi Cioè, aspetta però Mi ha importato un cuscino Una copriente matta Non ti servono? No, nei sensi Sono ti rubate assi Non... Che dire assi Non... Detto che ti ho portato questi Manco io a casa Dorma così bene Poi c'è questo Guarda, è perfetto Perché è 3 metri e mezzo C'è il tipo del lungo Non ti manco piegare gambe Ah, vabbè Adesso spero Sì Ma inocchiata In generale Vedi un... Ecco Di adesso ci sono Succhi e patatine del negozio Non devi mangiare Perché sotto i clienti Che compro le scarpe Gli regalano Vabbè dai Io vado a cena E vado al lavoro Non vado assolutamente A cena tra amici Grazie mille Vabbè ragazzi Buonanotte Oh, buonanotte a te È bello Domattina ti porto a colazione Eh, mi raccomando Quella Mi hai lasciato Con un cuscino E una coperta Un sacco di cose da fare Così non t'annogli E ma non mi ringraziare Che è un piacere Vabbè Ciao ragazzi Chiudo io Non mi preoccupate Buonanotte La serranda Così in caso Ti venisse il dubbio Non esci Va bene Ragazzi Stanno andando via davvero Non chiuderanno la porta Con la chiave Io rimango dentro E Sta chiudendo ragazzi Sta chiudendo davvero Sta Ah, sta mettendo l'allarme Stai mettendo l'allarme Sta mettendo l'allarme Sta chiedendo Ah, la serranda Sta Sta chiedendo La serranda ragazzi Siamo ufficialmente dentro Salutiamo C'è anche il riflesso Mi vedete forse Ciao Ciao Siamo ufficialmente dentro ragazzuoli Dentro un negozio Guardate Questo è un ottimo appoggio Passeremo la notte In un negozio Di sneakers Bello Sì Ma potrei anche in realtà Dire Ok Scegliamo qualcosa Da metterci di comodo Prima guardavo queste felpe qua Veramente veramente morbide Però attualmente Diciamo che non mi serve Prendere niente Chiaramente Se durante la notte Avrò freddo Anche se mi hanno messo Il condizionatore Con 30 gradi Ragazzi Faccio vedere Abbiamo veramente messo 30 gradi Se stanotte abbiamo freddo Ci penso Anche se abbiamo la copertina E il cuscino Qui adesso ovviamente Ci cambiamo Ci mettiamo comodi E poi capiamo Anche perché adesso sono le 22.39 Quindi sono le 10 e mezza di notte Capire prima la postazione Dove metterci Intanto facciamo anche un giro Ovviamente Magari mettiamo qualcosa di bello Tra l'altro Come sapete È una vita che io porto Le easy Ma volevo in realtà Iniziare a vedere Se c'era qualcosa di interessante Che potessi anche andare a mettere Magari qualche dunk Magari qualcosa di più Particolare Che ne so Qualche In realtà il Jordan Non mi fanno impazzire Però sicuramente La scelta ragazzuoli Non mi manca Io che porto calzini Molto particolari Uno di questi Sicuramente ragazzi Ce lo portiamo a casa Per forza Ragazzuoli ovviamente Non l'ho specificato Ma l'avete visto Chiaramente dal video Che oltre le scarpe E le sneakers E tutto ciò Che ne concerti Potete trovare qualsiasi cosa A livello di abbigliamento Vi lascio comunque Il loro sito Mi raccomando Passateci Perché ragazzi Di SunnySideItalia Punto it Ragazzuoli Sono i migliori Quindi link in descrizione Allora ragazzuoli Ci cambiamo E poi capiamo Posso dire Che sembra un labbro Se mi vedono da fuori Che ho un borsone Lo sto prendendo Tirando fuori robe Potrebbero dire A cavolo questo È là per fregarsi la roba Ok signori Almeno siamo pronti Per andare a dormire Ora Capiamo un attimo dove Esploriamo un po' il posto Ovviamente il camerino Non può essere Perché è troppo piccolo Qua Matteo mi diceva Della postazione qui Però cioè ragazzi Il problema è che poi Da fuori vedono Quindi ovviamente Non va troppo bene Però ragazzi Esploriamo un attimo Cosa c'è di qua Che magari Ma pensa te Guarda qua Questo è tipo il magazzino Con le scarpe Ma qui ho messo la mia giacca Potremmo andarci a cercare Tutte le scarpe Ragazzi Incredibile Bellissimo Il paradiso Ragazzuoli Tipo il garage Quando vedo le foto Dei garage Su Instagram Dei reseller Ok Bello Carabinieri Speriamo di non averne bisogno Stanotte ragazzuoli Qui c'è Oh qui c'è dell'acqua E delle bibite Ragazzi Non avevo pensato Al bere E al mangiare Qua Scarpe Signori Abbiamo anche Porca miseria E delle patatine Attenzione Vediamo se c'è No no Ok Sono tutte patatine E Signori Attenzione Cibo Allora Qui facciamo una bella cosa Hanno fatto un grosso ruolo ragazzi Cibo Ragazzuoli Potremmo aver trovato il tesoro Guardate un po' Qui c'è una banana Che mi sa che lasceremo qua Maglioli Biscotti Ok Ciucci Le calecca Ok Queste stanotte Sicuramente finiscono Della maionese Vi chiederò cosa ci fa Queste caramelle Che finiranno Un flauto Ragazzi Ok 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 Un altro flauto Signori Sicuramente non moriremo di fame Non so perché me la vedo come zona Cibo Non lo so La vedo un po' come zona cibo Questa Quindi abbiamo da bere Abbiamo un sacco di scarpe Che non ci possiamo portare a casa Qui è sempre il magazzino Ragazzi Ok In fondo c'è una porta Che vi dirà Mi fa abbastanza paura Ma penso sarà il bagno Anche perché Ce l'avranno un bagno Sti cristiani No Ok Quella roba là in alto Fa paurissima Fa un freddo canico Dentro Abbiamo un butter Lavandino Anche perché ragazzuoli Ci dobbiamo lavare i denti No E quindi per forza Queste robine dobbiamo fare Non con quello spazzolino Ma con il mio spazzolino Quindi siamo messi bene Perfetto Richiudiamo perché questo posto Mi fa tipo paura Stile film horror Quindi ragazzi Sto cercando di capire Cosa manca da valutare Perché poi uno dice Il problema è che Da fuori Quando Quando che sono Veramente mi piglio male Fuori ci sono un botto di luci Quindi dobbiamo sicuramente Spegnere le luci La serranda L'hanno tirata giù loro E ok Siamo tranquilli Qua dobbiamo Ragazzuoli Vediamo un po' Se riesco a capire Dove Si spengono le luci Potrebbe essere questo Uh ragazzi Guardate Una luce via Un'altra luce andata Ok Queste si spengono di qua Ok Aspettate Vediamo se riusciamo a spegnere Un'altra luce qui Forse questo Signori Ok È mega illuminato Voi ripeto Pensate Adesso si vede meglio fuori Pensate che da fuori Mi possono vedere Non possiamo mai dormire qua ragazzi Cioè mai nella vita Devo trovare uno spot Ah perché raga Cioè mi guardano da fuori Veramente c'è qualcuno Che può chiamare qualcuno Dicendo Ma ci avete Un lato nel negozio Allora O ci accampiamo qui Che potrebbe essere una soluzione Anche perché Posso spegnere le luci Eh Un'alternativa Non saprei Spero di non avere Ragazzi comunque Qua Più mi guardi intorno Più dico cavolo Spero che la mia scarpa Sia una di quelle Sposte o qualcuna qui E se è qualcosa Veramente che mi piace Perché Matteo Ha detto Sono sicuro che ti piace Di qua Di là Va bene Lui sa un po' I miei gusti Eccetera eccetera Sincero Spero non sia un po' Di easy Perché le ho praticamente Tutte E anzi Volevo in realtà Cambiare Quindi Non saprei Ovviamente nel mentre Fatemi sapere Qual è la vostra scarpa Preferita Mi raccomando E vediamo se riusciamo A accamparci qua ragazzi Facciamo un test Che poi quello no Non è che ha detto Gli porto due coperte Perché magari una La deve stendere E con l'altra appunto Ci si copre Mi ha dato una coperta Che cavolo ci faccio Come una coperta La stenderò a terra E per forza Qualcosa di questo tipo Può assomigliare Ma che durissimo Allora Matteo Questo è un messaggio per te Boh bello Facciamo il video In tuo negozio Quello che ti pare Però Se la scarpa Non è qualcosa Di veramente interessante Te la faccio pagare Ma Veramente Mi sono messo Qui di fianco ragazzi La scatola Con il cibo Per forza Sa che adesso Ci andiamo a lavare i denti Perché è tardino Bavo un sacco Per un mila di denti Non so perché Vediamo come sto così Perché sto freddo Pillo su Vado di là Mi prendo due robe Me ne metto a bosse Raga posso dire una cosa Quando mi entro in bagno Fa di un freddo C'è l'acqua Meno male Ricordatevi che è importante Lavarci i denti Bavo un sacco Per un mila di denti Non so perché Ti guarda signori Perfetto Già impostazione ragazzuoli Allora comunque no Scherzi a parte Intanto Scatola del cibo è qui Ho bisogno che ci prendiamo pure qualcosa Da bere ovviamente Ma non è che c'è Ah quindi sono tutte patatine Comunque bella l'idea eh Mi sa che tipo ogni acquisto Danno un pacchetto di patatine E se non erro Avevo visto che davano pure tipo Un succo Che per adesso non Sto ovviamente Trovando al massimo Mattina per colazione Ci facciamo un succhino Allora raga La mia paura più grande Era che a terra fosse freddo Però al momento Vi dirò Si sta bene Cioè Questa è la vista clamorosa Cioè se quello casca Io sono morto Adesso io veramente Proverò a dormire Però non succeda niente Cioè Metti il caso Che succede qualcosa Stavate quadrenti Non ci pensiamo Perché poi uno Magari il pallino se lo fa Tanto qua sto guardando Mille nomi di scarpe diverse Bellissime Apriamo una scatola a caso Allora prendiamo questa Eh Pensa a te Così Ci piace Comunque Ma te spero veramente Che domattina Di svegliare Con un bel regalo Ma ci andiamo a detto Ragazzoli Anzi trovo anche La posizione per la cam Per riprendere Che è tutto real E quant'altro Chi me l'ha fatto fare Veramente Si prova tutto nella vita Non abbiamo dormito in macchina Dormito per terra In aeroporto Ora posso anche dire Di aver dormito Forse Vediamo fino a domattina In uno sneakers shop Ovviamente però Adesso si Tutto buio di qua Di qua invece C'è il negozio Raga Comunque assurdo Cioè Veramente No se avessi dormito lì Raga mi vedevano tutti Cioè Ci andiamo di qua E ragazzuoli Con l'ultima piccola luce Buonanotte Possiamo fare una cosa Ho un po' freddo Ho le gambe Quasi quasi Ho la giacca Buongiorno raga Meno male Sono arrivate le 9 Porca miseria Raga Che impegno Giornale Bruttissima La bruttissima no Cioè nel senso Se avessi avuto Una coperta in più Tiravo dritto Mi sono svegliato 6-7 volte Mi sono messo la giacca Come potete vedere Quindi Ripeto una coperta in più Sono le 9 L'abbiamo fatto Tra poco in teoria Sono anche chiara per il negozio 9 e mezza 10 Adesso mi sa che richiudo gli occhi Finché non vengono Tanto che mi frega Aprono loro Quindi Adesso mi trovano qua Mi sono cotto Sembra che sta aprendo Buongiorno Matteo Intanto una cosa importante È importante Da mangiare Ok E poi ti racconto Finalmente Signori colazione Mi trattate troppo bene Ragazzi Cioè siete troppo Veramente Bisogna tenersi Come si dice Buoni gli amici Ancora meno gli amici Come era Non me ne sape un cazzo Tardiamo bene gli amici Come hai detto Allora La colazione Andiamo Che cosa prende il tema No 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 Questa non va a gentile mai Dai Andiamo allora La scelgo io Alla fine Ah questo Intendevi 42 giusto? Sì 52 e mezza In realtà Queste si sanno bene Sì tranquillo Ho sentito di una Di una voce Mi fa 52 e mezza Ah aspetta Però Hai donna Mi ha dato una scappa Da donna Sì tranquillo Va bene Veste in maniera diversa La scappa Ho sentito Ho sentito Che C'era L'intenzione Di fare Una collezione Una roba Mi è arrivata Una voce Quindi mi ha detto Dai che fai La prima Non gliela do io? No Eh sì Dai dai Leggi te Giuro Niente brutta roba Niente fake Porca boia Scusa ma Se mi faccio Una settimana qua Me le dai tutte Facciamo un mese? Ti penso Quanti vedi Adesso magari Mi compro un lettino No Bellissime È un'altra coperta Immagino Signori Le Trevis No comunque Seriamente Da una nostra parte Sono iniziato Un collezionista Canito E mi era detto Ci faccio un pensiero Ma adesso Mi tocca Inizio Davvero Eh ci sta Ti ho brigato Grazie Grazie a te Il negozio è sano e salvo Non hai sistemato niente Non hai nemmeno dato una pulita Ci guardi tu dopo Intanto mi ha arrivato Ci guardi Grazie La rimetto lì Si è affacciato qualcuno Che ha provato a Non so Trattarti male Ma ti dico Se tu qualche no È strano Ancattate Pronto Bene Dai Comunque Una mappa Di fianco Eh quindi Sei tranquillo Sì Quella è Luca Grazie Ragazzi Lo devo pure portare Tra il petrano Eh Lo devo bene Sì Perfetto